Ciao a tutti, e benvenuti sul nostro canale. Quale sarà il grande regalo di compleanno per Adnan da parte di Demir? In Terra Mara oggi vi portiamo un'anteprima speciale, dove assisteremo ai vari colpi di scena, a partire da un gesto del tutto inaspettato di Demir nei confronti del piccolo Adnan in occasione del suo compleanno, e poi un episodio sconvolgente che colpisce Fecheli. Ma come sempre vi invito a lasciare un like al video, ed iscrivervi al canale, perché il vostro supporto per noi è fondamentale. Fecheli si sta preparando per l'imperdibile festa di compleanno di Adnan, quando nota che Mujgan è ancora in abiti casalinghi in salotto, con molto stupore le chiede gentilmente perché non si è ancora cambiata, considerando che stanno per fare tardi dove si stanno dirigendo, e Fecheli con un sorriso le rivela che quella sera si terrà la magnifica celebrazione per Adnan. Mujgan ribatte che non parteciperà alla festa, e poi chiede a Fecheli se secondo lui deve essere presente per forza. Con calma Fecheli le spiega che non c'è alcun obbligo per lei di partecipare, ma le ricorda che avevano già discusso di quell'evento, e avevano deciso di andarci tutti insieme per accompagnare Kerem, il fratellino di Adnan. Inaspettatamente Mujgan suggerisce che Lifetime e lui possono prendersi benissimo cura di Kerem, poiché la sua presenza o assenza alla festa non cambierà proprio nulla. Fecheli tuttavia replica che non la costringerà ad andare, ma le ricorda che Adnan è suo nipote e fratello di Kerem. Risoluta, Mujgan non ammette che ne è consapevole e che non si oppone alla partecipazione di Kerem alla festa, ma ritiene che loro due siano più che sufficienti per accompagnarlo. A questo punto Fecheli le chiede se non pensa che sia finalmente giunto il momento di superare il rancore. Mujgan, affaticata dal dolore che ha sopportato, confessa che non desidera vedere nessuno che le ricordi il passato, poiché le sue sofferenze non possono essere dimenticate così facilmente e non è ancora riuscita a superarle, nonostante il suo desiderio di farlo. Fecheli con calma e saggezza le fa notare che non le sta chiedendo di dimenticare tutto, ma crede che sia arrivato il momento di lasciar andare il passato e che per vivere in pace e permettere ai loro figli di crescere in un ambiente sano e sereno, soprattutto, dovranno imparare a convivere con Zuleya. Poi dice a Mujgan che Yilmaz e Demir, pur essendo sempre stati in conflitto, sono riusciti a dimenticare tutto il loro odio reciproco. Inoltre fa presente che Zuleya è stata disponibile a fare la festa, pur essendo a disagio, solo per poter vivere con Adnan. Non intende obbligarla ad andare, ma le chiede di essere ragionevole. Alla fine Mujgan cede e annuncia che si preparerà per la partenza. Nel frattempo Demir aiuta Adnan a vestirsi in vista della festa imminente, mentre Mujgan si prepara per uscire con Kekerem e Fecheli. Laftime si dirigono verso il club cittadino dall'altra parte e si occupano dell'accoglienza degli ospiti appena arrivati alla festa, e poco dopo fanno il loro ingresso Fecheli e Mujgan, la quale si avvicina con gioia al nipote, mostrandogli e presentandogli con orgoglio Kerem. Successivamente Sermin dà il via ai festeggiamenti, portando la torta di compleanno, mentre Uzzun e Adnan soffiano sulle candeline. Un coro di applausi e auguri riempie la stanza, mentre tutti festeggiano il bambino successivamente Sermin annuncia che è giunto il momento di svelare la grande sorpresa preparata da Demir per suo figlio. Ringrazia calorosamente tutti gli ospiti per aver partecipato al compleanno sottolineando l'amore che prova per i suoi due figli, rivela che ha persino donato loro parte dei suoi beni, e aggiunge che quando ha accolto Adnan nella sua vita, nonostante fosse figlio di Yilmaz, lo ha trattato come se fosse suo, decidendo così di dargli il nome di suo padre. Zuleyha è sorpresa e Fekeli si riempie di orgoglio per il gesto di Demir, a questo punto Demir ufficializza il cambiamento di nome di suo figlio, che da quel momento si chiamerà Yilmaz Adnan, portando così il nome del suo vero padre. L'applauso scroscia tra i presenti, mentre Zuleyha abbraccia affettuosamente Demir per ringraziarlo. Nel frattempo Umit, che è arrivata mentre Demir stava facendo il suo discorso, guarda la scena con tristezza. Tutti gli ospiti si avvicinano per dare il loro regalo al piccolo Adnan e Fekeli si fa avanti per ringraziare Demir per aver reso omaggio a suo figlio, e porge il suo regalo e gli auguri al piccolino Adnan. Nel frattempo Fusun e le sue amiche commentano sorprese il fatto che Fekeli sembra aver donato una proprietà ad Adnan. Giunge alla festa anche Umit che si avvicina a Zuleyha, la quale la accoglie dolcemente e calorosamente, ma Demir osserva la scena con un po' di fastidio. Umit si dirige quindi verso il bagno, dove viene raggiunta da Demir, mentre lei commenta la sorprendente festa. Demir la interrompe con rabbia chiedendole cosa ci faccia lì. Umit risponde che è stata invitata da Zuleyha, il che scatena l'ira di Demir. che le chiede perché abbia mai accettato di andare e cosa stia cercando di fare. Lei gli risponde di lasciarla in pace, ma lui le ricorda che le aveva detto di non partecipare e che avevano fatto un accordo fra di loro. Le domanda il motivo per cui è andata, nonostante gli avesse detto di non presentarsi. Umit risponde che Zuleyha l'ha invitata personalmente e che se non avesse partecipato l'avrebbe interrogata per il vero motivo per cui non era alla festa, pertanto ha deciso di partecipare per evitare di destare qualsiasi tipo di sospetto, e se ne va, lasciando Demir sconvolto per la risposta. La festa intanto prosegue e Umit nota l'affetto tra Zuleyha e Demir, cosa che la mette molto a disagio. Mujgan, sua amica, si accorge del suo stato d'animo. Nel frattempo, esprime la sua sorpresa nel vedere che Demir ha dato il nome di Yilmaz a suo figlio. Gulten invece sospira di fronte a Zuleyha e Demir, è sollevata e commenta che sembra molto felice, Fadik fa un augurio affinché questa felicità duri per sempre. Improvvisamente Gaffur irrompe urlando, attirando l'attenzione di Demir che lo sgrida, chiedendogli spiegazioni. Terrorizzato, Gaffur gli racconta che lì fuori c'è il caos e il disastro. Demir infastidito gli chiede a cosa si riferisca, e Gaffur rivela che la villa è in fiamme. Tutti gli ospiti sono sconvolti dalla notizia, Gaffur perde i sensi e sviene, suscitando l'attenzione tra tutti i presenti, e soprattutto tutti cercano di aiutarlo, mentre Demir rimane per un attimo immobilizzato. Arrivano di corsa alla villa e vedono il fienile distrutto dalle fiamme. Gulten chiede a Gaffur cosa ci facesse lì, qualcuno si limita a dire che dovrebbero essere grati del fatto che fosse all'interno del fienile quando l'incendio è divampato, altrimenti non sarebbero nemmeno riusciti a spegnere le fiamme in tempo, e a salvare il resto della villa. Zuleyha commenta con sollievo che almeno nessuno si è fatto male, ed è meglio così. Demir dichiara con convinzione che l'attacco è stata opera di Fikret. Il giorno successivo Fekeli si aggira per la città e Demir gli si avvicina con rabbia, chiedendogli dove si trova Fikret. Fekeli gli chiede il motivo per cui lo sta cercando, e Demir risponde che entrambi lo sanno benissimo il perché. Fikeli gli dice che non è disposto a litigare di certo con lui e Demir lo provoca dicendo che non può definirsi suo zio, se non è in grado di controllare Fikret. Fekeli lo avverte di stare attento a quello che dice e Demir lo minaccia, esortandolo a prendere le redimidi a questo punto chiede a Demir che intenzioni abbia, dato che ha già calugnato la madre di Fikret e Demir risponde che Fikret avrebbe dovuto pensarci due volte prima di diffamare suo padre. I due iniziano a discutere e Fekeli definisce Demir un vigliacco, scatenando l'ira di quest'ultimo. Fekeli se ne va furioso, ma Demir lo segue fino all'azienda, dove spara ripetutamente al petto di Fekeli che cade a terra. Tutti i presenti sono terrorizzati. Le avvincenti anticipazioni per oggi sono terminate. Continuate a seguirci iscrivendovi al canale per rimanere sempre aggiornati sull'anticipazione della vostra serie preferita. Lasciate un like e attivate la campanella delle notifiche. Grazie e a presto!